Un altro tassello che restituisce ancora bellezza alla Basilica di Santa Maria di Colle Maggio torna al suo posto il bustoligno di San Pietro Celestino V dopo i lavori di restauro finanziati dall'UMPLI, l'Unione Nazionale delle Proloco d'Italia. Questo grazie a una raccolta delle proloco di circa 40.000 euro, 7.000 euro la cifra impegnata per il restauro. Siamo molto orgogliosi di questa iniziativa perché qui oggi ridiamo alla città dell'Aquila un'opera importantissima e soprattutto diciamo che è il frutto della grande solidarietà che si muove intorno al mondo proloco. Subito dopo il terremoto dell'Aquila c'è stato a livello nazionale una grande mobilitazione per raccogliere soldi da dedicare alla città dell'Aquila. L'UMPLI ha avuto l'idea di reinvestire questi soldi per il restauro della fontana di Fonte Secco e per il busto di Celestino V. A dirigere i lavori in una sinergia tra comune e soprintendenze UMPLI massimi di anometri, poco si sa sulla collocazione originaria in Basilica del busto, ma averlo riportato in città e al lato della Porta Santa è molto significativo. Perché è importante far ritornare qui Celestino e perché in questa posizione non abbiamo documentazione storica sulla posizione originaria del busto in Basilica. Ha subito diversi passaggi, diverse movimentazioni anche nella collocazione poi del soprintendente Moretti negli anni 70 quando appunto la Basilica ha assunto l'aspetto attuale e quindi potevamo in un certo qual modo individuare una qualsiasi posizione al ridosso della Porta Santa in una nicchia dove viene pienamente valorizzato su di una base che richiama quella della Madonna di Collemaggio sempre fatta realizzare su suggerimento della soprintendenza e quindi vediamo che sia il posto migliore per valorizzare questa figura e questa opera d'arte.